Buongiorno da Edo, la settimana scorsa c'è stato il CES, il Consumer Electronics Show in Las Vegas che è la più importante probabilmente fiera del settore dell'hardware, dell'elettronica insomma di tutti quegli apparati che riguardano l'informatica ma proprio a livello di device fisici e insomma volevo un po' fare un recap, un recappone delle cose che mi hanno colpito di più lette su svariati articoli che ho trovato online, credo che sarà un pochino difficile rendere in solo podcast quello che dico perché insomma poi vanno viste delle immagini, delle cose quindi ricordate che questo podcastino si può anche vedere se lo state soltanto ascoltando, si può vedere su YouTube e si può vedere su Spotify per tutti gli altri insomma spero comunque di raccontare qualcosa che magari vi dia qualche indicazione sui trend che si stanno seguendo, sulle novità che ci possono essere nei prossimi mesi stiamo comunque parlando del mercato consumer appunto quindi delle robe che arriveranno nelle case degli italiani oltre che nelle case di un po' tutto il mondo e il CS è una fiera che poi mi piace perché insomma è da quando sono piccolino che quando compravo le riviste che aspettavo i report dal CS per vedere che diavolo veniva fuori insomma non sono così piccolo da aver visto il lancio di cose storie come l'Atari o il Comodo 64 mi sono messo la magliettina per celebrare anche perché il Comodo 64 fu lanciato per la prima volta proprio a un CS che una volta erano due, una volta c'era il CS invernale e il CS estivo poi dopo è diventato una sola perché si sovrapponeva con le 3 insomma hanno fatto una scelta un po' così commerciale è rimasto questo appuntamento di Las Vegas ma è una fiera che si svolge fin dal 67 1967 quindi insomma è abbastanza storica bene allora vediamo un po' cosa è successo quest'anno proprio la settimana scorsa cosa è venuto fuori chiaramente scoprirete una fiera dominata praticamente interamente dalla intelligenza artificiale quindi l'AI domina anche il settore dell'elettronica consumer e ce lo dobbiamo aspettare allora parto da The Verge perché The Verge fa sempre questi servizi insomma recap con gli award dei prodotti migliori che si chiama i The Verge Awards in questo caso del CS 2024 insomma vediamo un po' di prodotti che The Verge ha selezionato naturalmente non ve li dico tutti vi dico solo alcuni che mi hanno diciamo colpito di più per esempio il tv apparentemente migliore di questa edizione per The Verge è un tv di Samsung che si chiama S95D è un pannello QD OLED la cui particolarità è di limitare al massimo i riflessi quindi è un glare free proprio non si sofferma troppo sulle caratteristiche proprio del pannello OLED ma sul fatto che non ci sono i riflessi apparentemente è una feature che al pubblico interessa particolarmente quindi se avete anche voi un salotto molto luminoso e avete il problema dei riflessi sullo schermo pensate che Samsung ha prodotto questo pannellone QD OLED che vi permetterà di eliminare i riflessi vabbè questa cagata con cui volevo iniziare questa carrellata ma in ambito PC invece se siete tra quelli come me del resto che vi piace assemblare i PC sapete bene che una delle più grosse menate nell'assemblare i PC è cercare di gestire i cavi di nasconderli di non farli passare vicino a dei pezzi che si riscaldano troppo per far circolare bene l'aria insomma la gestione dei cavi il cable management è il cruccio uno dei crucci più grandi di chi assembla un PC custom e tra i vari prodotti hardware che hanno fatto vedere al CS di quest'anno molti puntano proprio sull'eliminazione dei cavi o l'eliminazione fisica puntando su altri collegamenti ad esempio collegamenti magnetici o incastro insomma qualcosa che faccia totalmente a meno del cavo come ha fatto per esempio Asus con una scheda video RTX 4090 che non ha il cavo per trasmettere l'elettricità cioè il power connector ecco ma lo passa direttamente dalla scheda madre oppure che li nascondano come per esempio una scheda madre di MSI che si chiama Project Zero che sposta tutti i connettori sul retro che è una ottima idea perché in questo modo così i cavi passano dietro la scheda e voi dal vostro pannello trasparente perché naturalmente avete un pannello trasparente no? sul case ecco non vedete i cavi che a questo punto passano dietro la scheda madre insomma ci sono altri prodotti poi che hanno puntato su questo come delle ventole che si agganciano proprio con dei magneti ma insomma sembra che il trend potrebbe essere quello proprio di andare verso l'inimensione dei cavi che sarebbe praticamente la rivoluzione più grande in ambito di assemblamento di componenti PC dagli anni 90 praticamente perché assemblare un PC non è un processo che ha cambiato molto in 30 anni siamo sempre lì sull'infilare delle schede negli slot incastrare la CPU mettere le ventole e attaccare tutti i cavi siamo più o meno sempre lì e invece questo potrebbe essere un'innovazione quindi la butto lì si è visto questo trend che potrebbe essere carino seguire lascio perdere i connettori MagSafe lascio perdere device smart e delle auto dal dubbio gusto estetico e vado direttamente al miglior laptop o l'idea di laptop perché Lenovo ha lanciato un ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid tutta questa menata di nome per direvi che è un ThinkBook normale cioè almeno a prima vista ma che in realtà quindi un laptop con Windows no? ma che in realtà nello schermo nasconde un tablet Android cioè staccando lo schermo o girandolo completamente all'indietro voi non usate più Windows ma usate un Android che sta nello schermo quindi avete di fatto un tablet Android quindi avete questo convertibile ecco perché Hybrid che ha Windows quando digitata sulla tastiera se l'avete aperto come un normale laptop ma ha Android quando invece usate soltanto lo schermo un Android Touch tra l'altro a quello che si sa non c'è un collegamento tra i file di queste due macchine cioè non si parlano a quello che si capisce non si parlano a livello proprio di dischi o di memoria i due sistemi operativi quindi non si è ancora ben capito come fare eventualmente a condividere file se non via network tra le due macchine non so quindi questo potrebbe essere un problemino magari però arriveranno novità o aggiornamenti ecco al software o avranno pensato a modalità d'uso che non contemplano lo sharing di file tra le due non so se vi interessa insomma avere un convertibile Windows Android ecco questo Lenovo l'ha fatto per voi vediamo se mi sono segnato altro dall'articolo di The Verge si beh che il più grande trend dello show è stata l'internet artificiale come lo dicevo AI dappertutto quasi tutti i produttori hanno mostrato qualche device che conteneva delle feature di AI addirittura i produttori di automobili che hanno infilato già GBT dentro le auto o qualunque cosa qualunque nuovo device previsto per le case ecco contiene in qualche modo AI questo ce lo dovevamo aspettare insomma lo conferma anche The Verge e naturalmente a proposito proprio di AI il miglior gadget questo dopo lo approfondiamo un pochino è il Rabbit R1 e qui dovete vederlo intanto perché è un bel device bisogna dire che a livello estetico ricorda molto i device degli anni 80 giocattolosi, colori pastello, vivaci uno schermo piccolino che cos'è il Rabbit R1 è un device che affianca l'uso del vostro smartphone con l'intelligenza artificiale e usa le app del vostro smartphone al posto vostro questo sembrerebbe una descrizione stupida ma è esattamente così cioè voi dite al Rabbit R1 che cosa volete fare e se l'R1 riesce a usare l'app corrispondente perché ha un modello di AI allenato per usare quell'app la userà per voi quindi ci sono vari esempi questo è il sito di Rabbit lo trovate su rabbit.tech vedete che è un device a 199 dollari venduto a 199 dollari che ha appunto tra l'altro una bella presentazione che è dotato di una telecamera tra l'altro girabile a 360 gradi e un microfono tra l'altro ha anche una tastiera voi potete fargli venire una tastiera a schermo potete scrivere con la tastiera a schermo più una rotella insomma che potete usare una rotella scollabile per usare per scrollare in verticale ed è tutto qui è equipaggiato con Rabbit OS che è questo sistema operativo che contiene un LAM che sarebbe Large Action Model che è un nuovo tipo di Foundation Model che capisce le interazioni umane sui computer e quindi capisce che cosa volete fare e lo fa al posto vostro lo fa per voi quindi vedete sul sito un po' di idee di come dovrebbe funzionare questa roba la verità insomma è che questo device ha bisogno di connettersi a internet per andare sul data center di appunto Rabbit questa startup e usare il loro Large Language Model o Large Action Model che poi effettuerà le interazioni con le app per voi insomma è un'idea di hardware che potrebbe essere molto interessante io ricordo che di idee di hardware che collegano le AI appunto e dei device alternativi agli smartphone molto interessanti ne sono usciti negli ultimi mesi e non mi pare che abbiano avuto un gran successo ricordo lo AI PIN di Humane quella cosa con la telecamerina che si attaccava si attacca alla maglietta e poi al microfonino e vi proietta le informazioni sulla mano ecco quella roba quell'azienda sta già licenziando e non pare che stia andando molto bene probabilmente sarà destinata all'oblio anche lei Rabbit R1 in realtà ha venduto parecchio già nel pre-order che hanno aperto adesso al CS che in realtà non era neanche CS era un era nell'ambito del CS ma era in realtà una sede di staccata non era proprio nella fiera ma insomma ha venduto un pochino perché comunque piace esteticamente perché comunque potrebbe interessare ma a me qui viene da fare una riflessione ma se c'è una startup o più startup che pensano che abbiamo bisogno di la potenza di un large language model di un data center e di mandare tutti i nostri dati appunto in cloud per effettuare delle azioni che possiamo fare dallo smartphone usando un'app quindi se pensano che abbiamo bisogno di questo ulteriore livello di astrazione perché è troppo complesso usare un'app sullo smartphone ma non sarà che il problema allora è la user experience di queste app cioè non potremmo provare a migliorare la UX delle app e degli smartphone invece di costruirci dei device nuovi che tra l'altro hanno dei data center con delle AI che consumano una quantità di energia smodata e che hanno appunto ripeto una dubbia gestione della privacy quando invece magari potremmo semplicemente migliorare cioè se il problema è che devi prendere un biglietto del treno e questa azione è talmente complessa che invece di farla direttamente dall'app preferisci prendere un device nuovo a 199 dollari dirgli comprami un biglietto del treno per Roma e fargli fare tutto potremmo invece migliorare l'app dei biglietti del treno per renderla più veloce fruibile e migliore non lo so questa è una piccola riflessione che è venuta in mente quando ho visto la presentazione di questo Rabbit R1 ma sarò boomer io sarò boomer io probabilmente invece guardando altre testate che hanno coperto l'evento per esempio The Register va a vedere le cose più strane che sono emerse ACS c'è una che fa molto ridere dovete vedere questa immaginetta Flappy è un sportellino per il gatto smart naturalmente con AI lo sportellino per il gatto sulla porta quindi regola l'ingresso e l'uscita del gatto dalla vostra abitazione e cosa fa? quando il gatto entra in questo sportellino quindi si chiude da una parte aspetta a aprire dall'altra per capire cosa c'è dentro e tramite i sensori guarda se il gatto ha portato o sta cercando di portare in casa un altro essere vivente e a quel punto lo cattura lo blocca nello sportellino e vi avvisa che un ospite indesiderato sta per entrare in casa vostra a quel punto non lo so lo deciderete voi che cosa fare forse non saprete della fine del gatto finché non aprite lo sportello non so potrebbe dovevano chiamarla Schrödinger Flapp una cosa così potrebbe essere più più carina comunque questa è l'innovazione se avete problemi con i gatti che escono di casa e vi riportano dentro degli animaletti che non sopportate non gradite ecco sappiate che potete installare uno sportellino per gatto smart dal nome di Flappi a soli 435 dollari poi vabbè anche The Register parla di R1 quindi lo descrive con la loro solita ironia un not phone for your phone that can use your phone for you so you can use it instead of your phone insomma non ve lo traduco perché è abbastanza comprensibile ma l'ironia è evidente e mentre anche The Register si chiede chi ha mai chiesto per un device come questo apparentemente dice molte persone l'hanno fatto perché ci sono più di 10.000 unità vendute durante appunto il periodo delle 3 dice poi insomma un touchscreen da 2.88 pollici una camera rotabile e una levetta insomma una rotellina per scorrere in verticale con questo large action model proprietario naturalmente che è allenato per interagire con le app dello smartphone e va bene poi c'è questa questa gradita novità che è Squeal che The Register descrive come il suono che fai quando inevitabilmente ti spiattellerai sull'asfalto indossando un paio di queste no non è vero naturalmente dovrebbe così ricordare il nome degli sci quindi che in inglese si dice ski quindi da ski squill ma cos'è questo squill praticamente sono una coppa di pattini da indossare insomma con le scarpe che sono motorizzati e vi consentono di raggiungere una velocità di 80 km orari e andare a un'autonomia di 30 km quindi potete andare a 80 km orari per 30 km insomma e dovrebbero ricordare la sensazione dello sciare ecco questo questo dice il claim e possono essere usate sia su strada su asfalto che in fuoristrada questo è un prodotto di una compagnia francese io non so che cosa dire non so chi aveva bisogno di questa roba e perché qualcuno dovrebbe comprare una roba un qualcosa che è specificamente disegnato per uccidervi ma insomma pensateci voi cambio ancora e vado sul Guardian che si concentra invece su uno schermo che ha presentato LG che apparentemente è uno schermo che sparisce cioè non perché è foldable vi ricordate un altro trend di qualche CES fa degli schermi foldable cioè totalmente ripiegabili che si richiudono in un pannellino non si vedono più ma è sparito questo trend forse LG ne ha fatto qualcuno non ne ha venduto nessuno ed ora nessuno ne parla più chissà se invece sparirà o rimarrà questo trend degli schermi trasparenti ecco LG ha presentato uno schermo che si chiama Signature OLED da 77 pollici che di fatto è proprio trasparente come una PNG non so con quale formati di video riusciranno a mostrare la trasparenza totale ma insomma riuscite con alcuni video a vederci attraverso però se volete guardare un film degnamente insomma c'è l'opzione per fargli salire una pellicola dietro in modo da potervi godere i colori del film e la loro interessa non so a chi possa diavolo interessare uno schermo trasparente ma apparentemente LG crede che certe famiglie mettano lo schermo al centro della stanza invece che per qualche ragione attaccato al muro ma beh se vi interessa se siete tra quelli che hanno comprato il foldable di LG pensando che fosse il futuro ora invece c'è un nuovo futuro che è gli schermi trasparenti va bene quindi poi andiamo sulla AI AI anche qua sul Guardian che va a vedere naturalmente Flappy per i gattini che abbiamo già visto prima c'è un'altra cosa invece carina cioè dei binocoli un paio di binocoli che possono identificare grazie ovviamente all'AI più di 9000 specie di uccelli mentre li guardate mentre puntate agli uccelli è un device di Swarovski si chiama Optic AX Visio costa 4799 dollari e ha una videocamera da 13 megapixel che può anche registrare dei video in HD quindi andate a fare beardwatching e non avete manco lo sbatto di impararvi a riconoscere gli uccelli e leggere i manuali no ve lo dice lui vi toglie anche questa roba qua a questo punto se ci andate con gli squeal non dovete neanche fare la fatica di camminare arrivate lì guardate quel binocolo lui vi dice che uccellini ci sono e poi insomma tornate a casa con un biglietto del treno acquistato con Rabbit R1 un futuro radioso mi ricorda un po' Wall-E ma bene poi abbiamo la mixed reality anche la mixed reality è stato un pochino un trend di questo CS perché naturalmente Apple già l'anno scorso ha così calamizzato si dice calamizzato? non lo so calamitato calamitato l'attenzione del pubblico con i Vision Pro che peraltro sono in vendita dal 19 gennaio in US sono gli Stati Uniti per 3.499 dollari quindi ci aspettiamo a breve le recensioni degli influencer su questi Vision Pro ma delle altre aziende hanno provato a presentare dei competitor di Vision Pro oltre che degli altri tipi di device a RVR che potrebbero entrare insomma in questo mercato per esempio Sony ha annunciato una Spatial Content Creation System non lo so che è un appunto un visore per Mixed Reality con dei controller un pochino strani per fare content creation creazioni di contenuti 3D non ho ben capito a che cosa che cosa stia puntando Sony ma insomma anche Sony va nel mercato di AR e VR quindi potrebbe essere insomma una buona notizia per chi spera nella fioritura di questo mercato e poi c'è X-Real che invece presenta la seconda versione dei suoi occhiali per realtà aumentata questa volta sembra essere piuttosto carina si chiamano Air Ultra Air 2 in questo caso Ultra costano 699 sterline per il mercato UK quindi comunque non sono a buonissimo mercato ma sono molto più piccolini di un visore sono proprio degli occhiali un pochino più grossi che vi consentono appunto di avere della realtà mixed quindi virtuale e aumentata e quello potrebbe essere un passo nella giusta direzione poi macchine macchine non ci interessano ha un gadget molto chiacchierato in questa fiera è una cover per l'iPhone che aggiunge una tastiera fisica io sono sicuro che non è la prima che vedo cioè negli anni scorsi già ne avevamo viste di cover con la tastiera però qua viene presentata come novità di quest'anno Clix ha presentato la creator keyboard che appunto aggiunge una tastiera in stile Blackberry sul fondo dell'iPhone quindi avvolge interamente l'iPhone come una cover in più aggiunge questo pezzettino in fondo con la tastiera fisica costa 139 dollari io sono sicuro di averle già viste questi tipi di device non mi pare che abbiano mai avuto questo gran successo però a quanto pare è piaciuta piace e vedremo quanto piacerà nei prossimi anni e poi c'è L'Oreal che ha annunciato uno smart asciugacapelli per qualche motivo che usa il calore a infrarossi oltre naturalmente delle ventole e quindi dovrebbe risparmiare energia e asciugare i capelli più velocemente non so se userà l'AI pure questo però insomma sarà disponibile da aprile poi infine c'è un robottino di LG qua tra l'altro sul sito del Guardian si vede anche la foto di questo robottino in pieno stile Jetsons apparentemente si chiama AI Agent che non ha niente a che fare con gli AI Agent vabbè per chi sa di AI comunque si chiama AI Agent ed è questo robottino bipede con delle rotelline ai piedi insomma può girare per casa ha la telecamera guarda tutto quello che fate può appunto interagire con le persone che vede anche con degli ospiti che arrivano in casa vostra insomma funzionare come uno smart bot della vostra casa insomma se se vi interessa avere un cosino smart una telecamera che gira per casa e vi riprende io ricordo che ci hanno già provato anni fa questa cosa ci ha provato Amazon nessuno se l'è bevuta vediamo se invece l'iniziativa di LG avrà successo e vi voglio anche dare qualcosa per gli amanti dell'hardware PC informatico insomma su Tom's Hardware c'è anche lì la classifica delle cose più belle viste a CS vi dico soltanto i nomi ve li cito per la miglior scheda grafica c'è Nvidia con la RTX 4070 Super una revisione quindi della 4070 con un pochino più di potenza e un pochino meno di prezzo che questa è la cosa più interessante le migliori CPU invece sono il Ryzen 7 8700G e il Ryzen 5 8600G vabbè se siete addentro al mercato delle CPU insomma sapete di cosa sto parlando e poi cosa vanno a elencare ah il miglior laptop invece secondo Tom's Hardware è l'Asus Zenbook Duo che è praticamente un laptop normale con la particolarità però di avere un secondo schermo che si apre a libro sopra il primo in verticale quindi voi avete il laptop guardate lo schermo del laptop sopra lo schermo del laptop si apre si estende un ulteriore schermo quindi avete due schermi uno sopra l'altro questa è l'idea di Asus di darvi due schermi con questo Zenbook Duo appunto che devo dire non mi dispiace in realtà l'idea cioè avere più che altro perché vi da lo schermo il secondo schermo quello alto proprio ad altezza sguardo comunque più alto rispetto a e quindi risolve un pochino il problema di dover stare chinati verso lo schermo base chiaramente è un po' scomodo magari avere queste dimensioni quando siete che ne so al tavolino di un bar non è propriamente bellino neanche da vedere però non so per chi invece lavora in viaggio insomma per questi nomadi digitali eh maledetti potrebbe essere un'idea carina senza doversi portare ecco un secondo schermo appresso questo potrebbe essere un tutto in uno che può piacere vediamo se ha detto qualcos'altro di carino Tom Sardewer no non mi pare e poi schermi e a proposito di schermi non ve li leggo ma vi segnalo che su Ars Tecnica trovate un articolo che si intitola The 5 Most Interesting PC Monitors from CS 2024 e trovate appunto gli schermi più interessanti con vi anticipo le più grandi sparate in termini di frequenza di aggiornamento dello schermo che sapete benissimo che sopra un certo valore manco ce ne accorgiamo però qua si spara altissimo 500 600 1000 hertz di aggiornamenti dello schermo ultimissima cosa giuro su un altro articolo di The Register ho trovato due riferimenti da dover menzionare il primo è una partnership tra Walmart e Microsoft per qualche motivo vi giuro anzi c'era addirittura Satya Nadella sul palco del CS assieme al CEO di Walmart Doug McMillan per chi non sapete cos'è Walmart è la più grande cattina di supermercati negli Stati Uniti una potenza allucinante in quel mercato ecco Walmart ha fatto questa partnership con Microsoft per un'integrazione tra Walmart e i servizi di Azure e di OpenAI quindi usciranno già sulla app di Walmart per iOS delle feature integrate con l'intelligenza artificiale che sapranno al posto vostro quando ordinare il latte così è davvero pubblicizzata questa cosa potranno darvi dei consigli su cosa comprare a seconda della dieta che fate dello storico dei vostri acquisti insomma va bene vi interessa questa roba sappiate che c'è ci sarà la spesa smart da Walmart con l'integrazione con OpenAI e infine il più bel gadget di CS 2024 di sempre e cioè lo smart naso cioè un sensore olfattivo primo al mondo a fare il sensore olfattivo che è creato dal hardware device manufacturer giapponese Sharp e questo prototipo appunto analizza i campioni d'aria guarda lo spectrografo non so come si traduce in italiano comunque spectrograf spero che sia spectrografo insomma analizza l'aria e avendo il modello allenato su altri su altri spettri insomma su altre analisi di varie odori di varie composizioni chimiche mettiamola così ecco non tanto non tanto gli odori no ma proprio la composizione chimica dell'aria che analizza e lui è in grado di dirti a che cosa insomma corrisponde il prodotto che sta annusando che potrebbe essere una cosa molto carina impiegata magari in scenari dove c'è bisogno di analizzare questioni di sicurezza no vedere se ci sono fughe di gas oppure se nell'aria sono presenti composti tossici che potrebbero essere dannosi per gli esseri umani o per gli animali no mi immaginavo quel tipo di applicazione e invece come l'ha pubblicizzata Sharp beh come uno smart sommelier cioè mettete un decanter con un vino sopra questo coso che sembra un enorme giradischi o non lo so una stampante 3D e lui analizzerà gli effluvi di questo vino dal vostro decanter e vi dirà a quale bottiglia a quale bottiglia vi giuro io non so perché diavolo hanno dovuto immaginare un device pubblicizzato in questo modo quando le applicazioni sono innumerevoli bellissime sono giapponesi sono strani hanno questa questa idea molto strana sappiate che esiste un settore un sensore olfattivo AI che vi permetterà insomma di fare i figli alle feste di analizzare i vini in modo più accurato rispetto ai veri sommelier vabbè scusate volevo chiudere con una nota frizzante ecco questo riccappone del CS ora vi giuro che torno serio un attimino mi riposo vi do l'ultimo news del giorno che è importante perché è un aggiornamento della news su Apple che abbiamo dato a dicembre e poi chiudiamo allora aggiornamento Apple sul ban degli Apple Watch vi ricordate a dicembre abbiamo fatto abbiamo seguito questa notizia un rapido recap l'Apple Watch serie 9 e Ultra 2 era stato bloccato dalla vendita era stato impedito dalla vendita negli Stati Uniti sempre perché ci stiamo riferendo sempre a quel mercato lì perché Massimo che è un'altra azienda che produce sensori per vari livelli di salute e ha dei brevetti in particolare sui sensori del livello di ossigeno nel sangue ecco ha fatto causa Apple per aver utilizzato in maniera ovviamente truffaldina quei sensori perché poi c'era tutto il discorso dei vecchi dipendenti di Massimo che sono passati a Apple e si sono portati dietro le informazioni insomma se volete un po' riguardarvi bene tutta quella vicenda andatevi a recuperare gli episodi del podcast di dicembre in cui ne parliamo ma insomma l'aggiornamento qua è che Apple dopo aver bloccato la vendita degli smartwatch nei suoi negozi fisici e sul suo sito web aveva fatto appello per quantomeno riprendere la vendita sotto natale in attesa che la US Customs and Border Protection desse il suo parere definitivo su questa vicenda ebbene quindi per qualche giorno avevano ripreso le vendite adesso invece hanno deciso di rimuovere del tutto la feature del controllo di ossigenazione nel sangue dai nuovi Serie 9 e Watch Ultra 2 e quindi a quanto si sa a quanto dicono 9to5 Mac e Bloomberg Apple sta già spedendo ai suoi negozi ai suoi Apple Store delle versioni dei device che non hanno o comunque hanno disattivati questi sensori quindi apparentemente c'è stato un accordo tra le due parti questo è quanto dice l'avvocato di Massimo a 9to5 Mac e quindi si è deciso per questa risoluzione e Mark Garman da Bloomberg conferma che appunto le spedizioni agli Apple Store sono già incominciate però questi nuovi Watch non sono ancora in vendita cioè stanno attualmente vendendo ancora quelli con tutti i sensori attivi in attesa di capire quando partire davvero con questa risoluzione però si è un po' in un periodo di incertezza non si sa bene che cosa succederà a chi oggi decide di comprare un Apple Watch e a quelli che decideranno invece di comprare nei prossimi giorni quindi si è ancora un po' nel limbo attualmente però pare che appunto la decisione di Apple e di Massimo sia di accordarsi su questa cosa cioè rimuovere i sensori per l'ossigeno dai Watch almeno da quelli che sono attualmente in vendita poi aspetteremo novità e anche magari aggiornamenti proprio dei device nei prossimi mesi allora due link veloci veloci visto che oggi abbiamo parlato soprattutto di hardware e di AI vi do un link sull'hardware e un link sull'AI che magari vi stuzzicano il primo lo trovate sul blog di Iliana Etuin Etuin non Iliana Etuin Iliana Etuin che ha scritto di tutta la sua avventura per utilizzare SteamOS che vi ricordo è una versione di Linux di Arch Linux un po' modificata da Valve per consentirvi di utilizzare Steam e quindi di videogiocare su Steam Deck la console portatile appunto di Valve ma essendo una distribuzione Linux open source è anche installabile su altri PC solo che c'è da fare un po' di lavoretti non tutto funziona bene e bisogna disattivare alcune cose che sono specifiche per Steam Deck non è un compito proprio molto facile ma Iliana è riuscita a farlo c'è tutto un blog post dove appunto spiega come ha fatto rimuovendo alcuni commit di Valve sul kernel Linux rimuovendo alcuni software aggiungendo le altre insomma arrivando a una versione di SteamOS custom per il suo PC che gli dà insomma soddisfazione e riesce a giocare abbastanza abbastanza bene quindi se vi interessa andare a vedere come poter sfruttare SteamOS per un vostro PC da gaming questo potrebbe essere un buon articolo si intitola How I forked SteamOS for my living room PC e l'ho trovata appunto sul blog iliana.fyi che comunque consiglio di andare a seguire e poi in ultimo visto che abbiamo parlato di AI questo articolo che ho trovato molto divertente si intitola The internet is full of AI dogshit non ve lo traduco naturalmente ma è abbastanza comprensibile ed è un articolo di Gita Jackson che è trovato sul blog aftermath.site e qua è un articolo di opinione dove vi racconto insomma di come oggi sull'internet ci sia una marea di contenuto che è stato generato dall'AI anche su testate considerate attendibili insomma che si sono poi beccate anche gli insulti dei propri lettori per aver creato appunto contenuti con l'AI ci dà il caso di Sports Illustrated non solo testuali ma anche naturalmente immagini insomma e già oggi il web è pieno di questa roba e questa roba va a influenzare anche i risultati dei motori di ricerca su Google spesso alcuni risultati tra i primi tra gli snippet featured sono in realtà generati dall'AI e contengono delle cazzate perché naturalmente sapete che l'AI non vi dà sempre le notizie giuste queste poi però se finiscono su siti di informazioni poi vanno a far parte degli snippet di Google insomma è un casino ed è già oggi un casino quando la rivoluzione generativa AI insomma è un annetto dalla sua esplosione commerciale insomma quindi pensate a quanto sarà divertente il futuro insomma the internet is full of AI dog shit per una bella letturina frizzante per il martedì ho finito grazie per avermi seguito anche oggi vi ricordo che fra una settimana esatta riparte Continuous Delivery Podcast con un ospite a sorpresa che vi annuncerò oggi sul gruppo Telegram di Continuous Delivery e poi magari sui social la vediamo un po' sarà una puntatina un po' diversa dal solito frizzantina secondo me vi divertirete io mi diverterò un sacco spero che vi divertirete anche voi e basta tutto qua ho finito grazie per avermi seguito e continuate a farlo perché comunque mi date quella gioia che mi serve per fare queste cose quasi ogni mattina non proprio tutte le mattine ieri non ce l'ho fatta però quasi tutte le mattine mi serve della benzina per poter ecco dare combustibile a questa iniziativa ciao